Il genio di Giacomo Leopardi, i grandi nomi della cultura, l'arte nelle sue molteplici espressioni, una nuova e promettente generazione di giovani scrittori e di piccoli editori. Sono tutto questo le Marche, regione ospite alla 32esima edizione del Salone del Libro di Torino, dedicato quest'anno a Il Gioco del Mondo, dal titolo dell'omonimo libro di Giulio Cortazar, Grande Maestro del Novecento. La conferenza stampa ospitata nel capoluogo piemontese ha svelato un programma regionale ricco di appuntamenti che nei cinque giorni di Kermesse, dal 9 al 13 maggio, proporrà 100 eventi con 180 relatori e 60 editori. Cornice perfetta lo stand di 150 metri quadrati, arricchito dalle immagini di artisti marchigiani del paesaggio, come Tullio Pericoli e Ezio Buartocci. Il taglio del nastro in calendario per il 9 maggio, con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale delle Marche e dell'Assessore regionale alla cultura. E sarà il bicentenario dell'infinito ad avviare ufficialmente il programma culturale, avendo scelto di dedicare una particolare attenzione alla figura di Leopardi. Nella serata incontro con la regione ospite, che si terrà presso il Circolo dei Lettori a Palazzo Graneri della Roccia, l'attrice marchigiana Lucia Mascino ed il musicista Alessandro Cugliani animeranno lo spettacolo For si s'avessi io l'ale più felice sarei, racconto in prosa e poesia per Lopardi e di Monti Azzurri. Lo spettacolo è rivolto al rilancio dei territori interessati dal sisma, in particolare all'area maggiormente colpita, quella dei Monti Sibillini. Nella giornata del 12 maggio, l'infinito sarà al centro di uno degli eventi clou del Salone, con l'incontro Io nel pensier mi fingo, al quale parteciperanno Massimo Cacciari, Giulio Giorello e Piero Dorfles. Ma la presenza delle Marche a Torino è tanto altro ancora, autori affermati e nuovi, una promettente leva di editori, molti dei quali riuniti nell'associazione Edi Marca ed altri importanti testimoni del mondo culturale. Altro appuntamento per festival, rassegne culturali e premi letterari regionali, che verranno presentati presso lo spazio Super Festival del Salone. Infine le Marche, culla della carta occidentale, con le dimostrazioni dal vivo dei mastri cartai di Fabriano.